Mi impedisce di uscire di casa, non posso frequentare nessuno, non posso avere denaro mio, non posso lavarmi i denti se non mi accusa di tradirlo, mi tira addosso la minestra se non è di suo gradimento. Queste le disperate parole di una donna di origine albanese residente ormai ad Arezzo con i suoi bambini di 1 e 6 anni. Il racconto è stato fatto alla polizia per denunciare le angherie e i maltrattamenti subiti da parte del marito. Un matrimonio obbligato, quello con l'uomo avvenuto in Albania, con i maltrattamenti e le violenze che erano cominciate fin da quando erano fidanzati. La ragazza stufa di accettare queste continue violenze si era rivolta alla questura e in un primo momento aveva rifiutato il trasferimento in una struttura protetta. Di fronte però all'ultimo grave episodio in cui la giovane donna era stata minacciata con un coltello dal marito, si è decisa ad accettare il trasferimento in un luogo sicuro. I poliziotti della squadra mobile, con l'ausilio importantissimo dell'associazione Pronto Donna, con la quale collaborano strettamente in questi casi, sono riusciti a interrompere questa situazione di abusi collocando la donna in una struttura protetta insieme ai propri figli. Prima di chiedere aiuto alla polizia, la ragazza si era rivolta alla propria famiglia di origine ma il padre gli aveva intimato di essere obbediente nei confronti del proprio marito e assecondarne sempre le sue richieste.